Vi faccio, vi voglio fare e mi voglio fare delle domande che rimangono sospese per accendere una scintilla di riflessione comune, perché istruzione e cultura sono fondamentali per favorire lo sviluppo sostenibile e non possiamo ignorare il nostro ruolo all'interno di questa tematica. Cosa possono fare le organizzazioni come la nostra, che sono fatte di valori di sport, a supportare e aiutare la comunità educante tutta per raggiungere l'obiettivo dell'agenda? E soprattutto, cosa abbiamo fatto sinora? Cosa abbiamo fatto per dialogare con la scuola insieme e cogliere gli obiettivi complessi di sostenibilità, per formare cittadini attivi e competenti all'altezza di questa sfida? Abbiamo sviluppato idee e progetti che coinvolgano la comunità locale al fine di accrescere non solo percorsi di apprendimento individuali o di classe, ma apprendimento sociale. Abbiamo detto a tutti gli attori che si occupano dell'educazione che lo sport rappresenta la terza agenzia educativa dopo la famiglia alla scuola e che uno degli indicatori della povertà educativa è l'assenza della pratica sportiva per i bambini dai 6 ai 12 anni. Abbiamo contaminato e contagiato gli insegnanti dei nostri territori attraverso formazioni, webinar e incontri sul fatto che lo sport in molti casi rappresenta l'ancora di salvezza per i nostri giovani, sia in termini di benessere fisico che in termini di apprendimento trasversale alle discipline. Abbiamo cercato di far capire loro in modo efficace ed efficiente che la nostra idea di sport esprime un obiettivo sociale, politico e culturale e che se lo sport è soltanto massima prestazione e record non può tecnicamente essere per tutti, non avrà effetti di inclusione ma di esclusione e creerà drop out. Abbiamo in qualche modo urlato che al drop out sportivo è spesso associato all'abbandono scolastico? Abbiamo provato e cercato di rivedere insieme alle scuole i famosi piani trennali dell'offerta formativa in modo che si portino dentro di loro quel cambiamento culturale che ci possa permettere di intraprendere una politica di valorizzazione dello sport con fini educativi che può offrire questo sport un contributo decisivo alla formazione dei giovani. Se l'abbiamo fatto, se perlomeno ci abbiamo provato, va bene, siamo sulla buona strada ma dobbiamo farlo più forte perché oggi più che mai non possiamo permetterci che il movimento sportivo sia a vantaggio di pochi perché occorre costruire alleanze ampie per vincere questa sfida, alleanze che includono attori differenti capaci di intervenire a tutti i livelli e oggi più che mai l'ISP deve diventare una sorta di antenna, di radar sociale che si attiva per costruire interventi integrati al fine di rafforzare la comunità educante del protagonismo giovanile. Solo in questa prospettiva i nostri ragazzi possono diventare protagonisti del proprio stile di vita. Non possiamo infatti ignorare come associazione ma soprattutto come cittadini che la scuola rappresenta speranza allo stato puro perché nulla è altrettanto potente nel forgiare la forma mentis delle persone. Grazie.